Eccoci, buonasera, una giornata intensa, nevrotica, con incontri questa mattina di Conte a Palazzo Chigi, prima con Salvini e poi con Di Maio, e poi il Premier che è salito al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica, mentre è arrivata nel pomeriggio la famosa lettera da Bruxelles, a cui poco fa è stato confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è il vero destinatario della lettera dalla Commissione Europea, a cui verrà data risposta entro i termini, cioè entro dopo domani. L'Italia deve dire cosa fare adesso per rimettersi in pari con le aspettative e gli impegni presi sul riassorbimento e tendenziale del debito. Ma contemporaneamente nella giornata di domani, quella in cui verosimilmente sarà messa insieme, scritta e confrontata con i vertici di governo questa lettera di risposta, sarà in corso dalle 10 alle 20 sulla piattaforma Rousseau un vero e proprio referendum sulla fiducia a Luigi Di Maio. È stato lo stesso capo politico, vicepremier e ministro, biministro, a dirlo, a annunciarlo come proprio una prova di fiducia, probabilmente per rompere l'assedio che si era fatto più intenso anche con l'offerta di dimissioni e anche però la richiesta di a sua volta di fare almeno un passo indietro da uno dei quattro incarichi da parte di Gianluigi Paragone e le altre voci che si potevano nitidamente udire all'interno del Movimento 5 Stelle stesso. Tra l'altro stasera assemblea congiunta dei gruppi parlamentari e la delegazione più forte del Parlamento per discutere sul rovescio elettorale di domenica scorsa alle europee e anche, non dimentichiamolo, alle regionali del Piemonte e soprattutto, vorrebbe da dire, nei comuni dove nessun esponente del Movimento è arrivato neanche ai ballottaggi. E questa è una giornata campale, quella di domani, perché tra l'altro dovrebbe arrivare anche la sentenza definitiva per il vice ministro Rixis, una vicenda di spese pazze regionali che aveva coinvolto larga parte del Consiglio regionale Ligure dell'epoca. Una questione di dieci anni fa, ma in caso di condanna definitiva che fare? I leghisti lo vorrebbero ovviamente tenere il governo, i 5 Stelle ne fanno una questione di principio e di contratto di governo. Tutte queste cose insieme, nel 48 ore, in un clima che resta molto teso, soprattutto dal versante dei 5 Stelle, come è chiaro. Ma vedremo anche che ci sono altri fatti, molti altri fatti, tra cui uno di pochi minuti fa è la sentenza a macerata nel processo per la morte di Pamela Mastropietro, lo ricorderete tutti, quella è la vicenda di oltre un anno fa, ebbene Ergastolo, per inosente Osegale, il nigeriano accusato, imputato per l'omicidio stesso. E poi vedremo anche però che c'è un fatto che ha veramente coinvolto l'intera America, perché per la prima e verosimilmente unica volta ha parlato in diretta televisiva il super procuratore del Russiagate, Müller. Cosa ha detto sostanzialmente Müller? Se avessimo avuto gli elementi per pensare che potesse essere incriminato Trump, lo avremmo detto, ma se avessimo trovato gli elementi per dire che era sicuramente innocente, lo avremmo detto. Una serie di dichiarazioni di questo tipo che ovviamente fanno propendere per il caso è chiuso, parole di Trump, oppure ora allora bisogna riaprire tutto. Parola dei democratici. Questo è altro, 30 secondi di titoli. Dopo il terremoto politico delle europee, il Presidente del Consiglio Conte ha visto oggi uno dopo l'altro i due vicepremiere, poi è salito al Quirinale a Mattarella. È stata una ricognizione sul rilancio dell'attività del governo. Il nostro è un programma di legislatura, ha spiegato Conte. Salvini ha chiarito che c'è sintonia con Palazzo Chigi, ma le cose, aggiunto adesso, vanno fatte presto e bene. E nel Movimento 5 Stelle c'è grande attesa per il voto di domani. Gli iscritti dovranno decidere sulla piattaforma Rousseau se Di Maio deve restare capo politico dopo il risultato delle elezioni. È stato lo stesso vicepremiere a volere questa verifica. Grillo e Casaleggio spingono per la conferma. Stasera intanto, altro faccia a faccia, assemblea di tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. L'Italia nel 2018 non ha fatto sufficienti progressi sul debito e conti pubblici. Questo è il senso della lettera arrivata a Bruxelles al nostro Ministro dell'Economia, con una richiesta entro venerdì di risposta circostanziata. Già a lavoro Tria, se le esplicazioni del nostro Paese non saranno considerate sufficienti, l'Unione potrebbe avviare la procedura di infrazione. Poco fa, la sentenza macerata per l'omicidio di Pamela Mastropietro, i giudici della Corte d'Assise erano riuniti dal primo pomeriggio Ergastolo per Innocente Osegale, l'unico impotato per la morte della diciottenne romana, venuta nel gennaio 2018. Secondo l'accusa, il pusher nigeriano avrebbe violentato e poi ucciso la giovane con due coltellate. Non possiamo escludere che Trump abbia commesso reati, ma non siamo riusciti a provarlo. Così il super procuratore Mueller, che ha indagato sul Russiagate e che oggi ha parato per la prima e unica volta nella pubblicazione del suo rapporto, secca la replica del Presidente che taglia corto. Non ci sono prove, sono innocente, il caso è chiuso, twitta, ma i democratici dicono esattamente il contrario. Buonasera, una giornata che è stata attraversata, come vedete e come avete ben compreso dall'anticipazione dai titoli, da fatti e da colpi di scena veri e propri, sia sul versante della verifica interna, chiamiamola così, al Movimento 5 Stelle, con dimissioni annunciate di prima mattina, paragone ad esempio, richieste pressanti a Di Maio perché esca dal quadruplice ruolo capo politico, vice premier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico. E poi la decisione alle 10 di mattina, dopo tutto questo era già successo, dello stesso Di Maio di dire, andiamo domani a contarci sulla piattaforma Rousseau, una vera e propria consultazione sulla fiducia. Ma contemporaneamente per Di Maio e prima di lui per Salvini c'era anche l'incontro a Palazzo Chigi con Conte per vedere se le ragioni del governo di convivenza andavano avanti dopo il risultato che ha premiato moltissimo uno e punito moltissimo l'altro dei contraenti appunto del contratto di governo stesso. E poi Conte è andato al Quirinale. Nella giornata anche però la lettera tanto attesa da Bruxelles che ci mette quasi in mora e a cui bisogna rispondere entro dopo domani. Cominciamo dal governo. Pranzo al Quirinale dopo due ore faccia a faccia con Matteo Salvini e la sua nuova agenda e un colloquio molto più breve con Luigi Di Maio. In attesa del redderazionem interno al Movimento 5 Stelle sulla leadership di Di Maio, prologo indispensabile di qualunque vertice a tre non a caso rinviato a venerdì, il premier Giuseppe Conte consulta e viene consultato. Sono moderatamente ottimista sul prosieguo della legislatura detto al capo dello Stato facendo capire, secondo quanto trapela dal Quirinale, di sperare in una sua permanenza a Palazzo Chigi ma evidentemente di non aver avuto garanzie assolute da Salvini o rassicurazioni sufficienti. Lo schema di gioco del leader della Lega resta quello già mostrato ieri infatti. Nessuna richiesta di rimpasto, Conte non ne ha parlato con Mattarella. Solo contenuti, molti dei quali indigesti per il Movimento 5 Stelle e in qualche modo imbarazzanti anche per lo stesso Conte. Vedi la TAV sulla quale il premier si era esposto in conferenza stampa con un no forte e argomentato. O si mette mano in fretta ai dossier leghisti o si vota in la linea. Non ci sono altre maggioranze. Io voglio lavorare con questa maggioranza che ha lavorato bene per nove mesi. Voglio dimenticare, non ho mai risposto, le polemiche, gli attacchi, i no delle ultime settimane e siamo pronti, ho riunito i miei deputati, i senatori e i ministri perché abbiamo aggiornato le cose da fare. Mi rifiuto di raccattare deputati in caso di crisi, tre senatori ladiaci, deputati qua alla Scilipoti, ha rincarato la dose Salvini, per smontare qualsiasi ipotesi di manovra in Parlamento, di cambi di maggioranza o approdi a Palazzo Chigi senza passare dal voto, smentendo anche quei sussurri da Transatlantico sul soccorso da parte di inesistenti, per ora costole, del Movimento 5 Stelle. Movimento al quale si rivolge con il fair play che deriva dai mutati rapporti di forza. Rispetto la loro discussione interna, aspetto il voto su Di Maio, fiducia, dice Salvini, salvo spiegare ai gruppi parlamentari leghisti riuniti alla Sala della Regina a Montecitorio che però guai se nel Movimento dovesse prevalere la linea di Di Battista. Attacchi e distingo, allora il governo chiude, dice Salvini. Minacce e segnali che il pressing, tra rafforzandosi, si ricavano anche dalla moltiplicazione di messaggi ostili. Vedi la richiesta Conte, al ministro degli esteri Moavero, di rispondere con durezza alla lettera dei consiglieri delle Nazioni Unite sui rifugiati. Avevano chiesto spiegazioni sulle circolari del Biminale prima del voto per la chiusura dei porti, sventolate dai Cinque Stelle e dall'opposizione in campagna elettorale. Sulla riforma della giustizia. Irricevibile sarebbe per il Movimento la separazione delle carriere dei magistrati. E poi c'è il caso Rixi, domani la sentenza e la conseguente possibile richiesta di dimissioni del viceministro in caso di condanna. Gli applausi oggi dei parlamentari leghisti all'ex sottosegretario Siri sono apparsi poco rassicuranti. Di fronte a tutto questo attivismo salviniano, Conte fa sapere con una nota di aver elaborato lui stesso un'agenda fitta e di essere lui a volere l'accelerazione del confronto e del chiarimento fra i due azionisti. Dallo staff del Premier trapela la voglia di andare a vedere le carte sui 30 miliardi di euro per la flat tax. Dove li trovano è la linea? Domanda alla quale il viceministro dell'economia Garavaglia dice di essere pronto a rispondere. Lui, quei 30 miliardi, sa dove trovarli. Ammesso che ci sia il tempo per tutto ciò, per tirare la corda e chissà se fino al punto di spezzarla. Sul fronte interno l'altro aspetto forte è quello riguardante il dibattito interno ai 5 Stelle, inedito per la chiarezza e un po' crudezza anche su alcune richieste. E del resto è la prima volta che il movimento, dalla sua nascita elettorale, si trova di fronte a un arretramento così forte. Così, dalla prima mattina, come dicevo, erano arrivate nuove richieste a Di Maio di passi indietro. Finché non è stato lui stesso il capo politico a prendere l'iniziativa. A voi la parola, scrive Luigi Di Maio alle 9.54 del mattino sul blog delle Stelle. Chiede agli iscritti alla piattaforma Rousseau di pronunciarsi sulla sua leadership. Voto aperto dalle 10 alle 20 di domani. Voi siete gli unici a cui devo rendere conto del mio operato, aggiungo in fondo ad un messaggio nel quale difende a spada tratta le scelte fatte e il suo impegno personale. Ho letto di tutto contro di me, dichiarazioni di ogni tipo, da ogni parte. A queste parole devono essere fischiate le orecchie, soprattutto a Gianluigi Paragone, autore di un doppio letale siluro in direzione del suo capo politico. Perché dopo aver sostenuto ieri, che non può rivestire quattro incarichi tutti insieme, capo del Movimento, vicepremiere e ministro dello sviluppo e del lavoro, oggi ha rilanciato, mettendo in discussione, proprio l'operato di Di Maio. Ha fatto male pure da ministro il titolo dell'intervista al Corriere della Sera. Rimane da capire se Paragone parla per sé o coinvolge anche qualche compagno di viaggio in motorino. Anche Alessandro Di Battista, che qualcuno indica come possibile alternativa alla guida del Movimento, ha criticato la campagna elettorale, giudicandola poco efficace. Ma non voglio destabilizzare, anzi, metto le mie dimissioni da senatore sul tavolo, decide. Luigi prova a correggere la rotta Paragone a metà mattinata dopo aver letto il blog delle stelle. Anche perché con il passare delle ore con Di Maio si schiera chi nel Movimento continua ad avere voce in capitolo. All'ora di pranzo, sul suo blog interviene il garante Beppe Grillo, che copre e avalla l'operato del capo politico. Luigi non ha commesso nessun reato. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima, la sentenza di Grillo. Luigi mostra non solo coraggio, ma anche grande coerenza e rispetto di un capo politico per i principi e i valori del Movimento 5 Stelle. Rilancia il titolare della piattaforma russo, Davide Casaleggio. Dichiarazioni che spediscono in secondo piano gli interventi a favore di Di Maio di tutti i ministri da Bonafede a Fraccaro. Come anche quelli critici. Anche questa lista aveva preso corpo con il passare delle ore, così dopo Lombardi e Ruocco e i dissidenti storici di ieri, oggi il più pesante è stato Andrea Colletti, deputato al secondo mandato, che non se la prende direttamente con Di Maio, ma con quelli che gli stanno intorno definiti esercito di Lecchini Yes Men. In assemblea questa sera ci sono tante cose da chiarire, ci dice Emilio Carelli, ascoltato rappresentante del gruppo più vicino a Di Maio, era al vertice ristretto di lunedì al Ministero dello Sviluppo. Assemblea alla quale parteciperà e parlerà anche il presidente della Camera, Roberto Fico, considerato il vero capo storico dell'opposizione interna. Stasera c'è una riunione dei gruppi parlamentari, parlerò stasera di riunione. Per sapere se Di Maio rimarrà al suo posto con tutti gli incarichi, bisognerà aspettare domani sera la chiusura del voto online. Ma già stasera dall'assemblea dei parlamentari, convocata alle 20 e 30, si vedrà se il gruppo 5 Stelle è ancora compatto, o se invece è verosimile il rischio di una scissione, più o meno grande. E poi la terza delle grandi questioni, la lettera, la lettera dall'Europa, la lettera a cui bisogna rispondere entro dopo domani, la lettera che prefigura comunque un percorso difficile del governo che deve trovare, reperire molte decine di miliardi per ottemperare a quello che ha già indicato e promesso, ma anche per riuscire a raddrizzare i conti. Due giorni di tempo, poi venerdì il governo dovrà rispondere, ma niente ultimatum è la prassi, prevista dalla richiesta di chiarimenti avviata con la lettera spedita da Bruxelles. E a Giovanni Tria, che si rivolgono Valdis, Dombrovskis e Pierre Moscovici, ancora ovviamente in carica, da numero due della Commissione responsabile per gli affari economici. Vogliono capire perché l'Italia nel 2018 non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito. Atto dovuto quanto atteso, visti anche i dati macroeconomici dei primi sei mesi dell'anno, caratterizzati dall'aumento della fragilità nella finanza pubblica e il rapporto attuale deficit-pill. Ma che sui conti dell'anno scorso la procedura di accertamento dovesse partire era cosa nota da tempo. E stando ai trattati europei, e la Commissione di Bruxelles, in questi casi, ha il dovere di preparare una relazione da inviare al Comitato Economico e Finanziario, l'EFC, che darà la sua opinione. Quanto alla risposta, in base al patto di stabilità e crescita, gli Stati membri possono evidenziare tutti quei fattori ritenuti rilevanti per dare un giudizio approfondito sulla qualità delle scelte economiche in atto in modo da giustificare lo sforamento dei parametri di riferimento. Che sia una procedura standard, lo scrivono gli stessi Moscovici e Dombrovskis, e che l'Italia non è la sola a ricevere la richiesta, lo conferma la Commissione. Anche a Francia, Belgio e Cipro è stato chiesto di spiegare i problemi di bilancio. Esattamente un anno fa, dunque prima dell'insediamento del governo Lega 5 Stelle, Bruxelles raccomandava per l'anno in corso un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3% del prodotto interno lordo e dello 0,6% per quest'anno. A dicembre, invece, per evitare la procedura per debito eccessivo, venne concesso all'Italia più tempo per un miglioramento, ma i dati di aprile di Eurostat indicano su entrambi gli anni che il saldo strutturale è peggiorato. Parliamo dello 0,1% nel 2018 e dello 0,2% nel primo semestre 2019, ma tanto basta per far partire la macchina dell'accertamento. In realtà sono i numeri del debito pubblico complessivo, l'elemento incontrovertibile dal 131,4% del PIL nel 2017 è aumentato al 132,2% l'anno scorso e secondo Eurostat supereremo il 135% l'anno prossimo. Se vuol caso Italia, l'Eurogruppo potrebbe cominciare a discutere a metà giugno, a Lussemburgo, per poi arrivare a Bruxelles nell'ultima riunione prima della pausa estiva. Una partita difficile che ovviamente agita tutta la politica, il governo e le opposizioni. A poche ore dall'arrivo della lettera di Bruxelles che chiede all'Italia chiarimenti sul debito, l'incontro tra il ministro dell'economia Tria e il premier Conte a Palazzo Chigi prende la forma di un gabinetto di crisi. Si tratta infatti di una partita complessa sulla quale pesano gli esiti del voto. Non sarà facile offrire garanzie mentre già da ieri Salvini, forte del suo 34%, sferrava l'attacco alle regole europee promettendo misure costose come la flat tax. Più conciliante, Giorgetti, potente sottosegretario leghista che apre ad un confronto con Bruxelles che non sia solo recepire indicazioni ma anche coordinare con l'Europa le priorità dell'agenda italiana. Un dossier delicato con il ministro dell'economia poco disponibile a finanziare nuove misure in deficit. Anche se dal suo ministero oggi arrivano rassicurazioni la lettera era attesa la risposta arriverà nei tempi indicati la linea del MEF. Una tegola che le opposizioni non esitano a cavalcare. Salvini stia attento l'Italia rischia di saltare attacca dal PD Misiani. L'unico effetto della sua propaganda è scoraggiare i risparmiatori che comprano il nostro debito mentre Maratien rincara la dose. Catastrofico aver affidato la politica economica a persone che non hanno la più pallida idea di cosa stiano facendo. Non penso che il governo abbia molto da poter rispondere. Nel centrodestra si apre una faglia. Forza Italia invita ad evitare lo scontro con Bruxelles. Con Brunetta che avvisa gli investitori ritengono un eventuale scontro con la commissione peggiore di un aumento del deficit stesso e aspettano di capire se il governo vuole davvero andare allo scontro. Per trattare è necessario stabilire un rapporto di cordialità. Non serve battere i pugni sul tavolo era stato ieri il consiglio di Berlusconi mentre la Meloni sposa l'offensiva di Salvini. Mi auguro che la commissione europea insieme alla lettera sulla richiesta di chiarimenti abbia mandato anche una lettera di scuse al popolo italiano attacca la leader di Fratelli d'Italia per le politiche disastrose che ha attuato negli ultimi cinque anni e che hanno causato disoccupazione e miseria alla nostra nazione. Non prendiamo lezioni da questi incompetenti. C'è anche da parlare lo farò però brevemente dei nuvoloni che preannunciano tempesta tra i magistrati. Che cosa che cosa è successo? È successo che è andato poche settimane fa in pensione il procuratore di Roma Pignatone e ovviamente bisogna scegliere il successore. La scelta del consiglio superiore della magistratura avverrà nel plenum tra una ventina di giorni ma sono in corso ovviamente i confronti e anche quella che sembra una vera propria spiace dirlo lotta di clan tant'è che questa mattina sui giornali arrivavano notizie contrapposte e tutte a quanto pare in qualche modo vicine alla realtà. Innanzitutto quella che riguarda Luca Palamara ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ex membro del precedente CSM indagato con l'ipotesi di corruzione a Perugia dove si approfondiscono i suoi rapporti col lobbista Centofanti arrestato nel 2018 per frode fiscale legato all'avvocato Piero Amara l'ex legale di Eni arrestato anche lui per reati contro la pubblica amministrazione. Amara è il trade union con un'altra grana che scuote anch'essa la procura di Roma il pubblico ministero Rocco Stefano Fava titolare del fascicolo sul Consiglio di Stato ha presentato al CSM un esposto contro il suo stesso aggiunto cioè Paolo Ielo e anche l'ex procuratore capo Pignatone per Fava avrebbero dovuto astenersi dalle indagini su Piero Amara perché i fratelli di tutte e due di Pignatone e di Ielo entrambi avvocati hanno avuto rapporti di lavoro con l'avvocato arrestato con i suoi coindagati e coneni se non ci avete capito niente non preoccupatevi è la solita storia intricata dietro a cui stanno gli scontri tra magistrati duole dirlo e ripeterlo in vista di una scelta molto importante e una serie di scelte a ricasco se il successore di Pignatone a Roma fosse a sua volta già come quasi certo un procuratore in carica da qualche altra parte ma a proposito di giustizia è arrivata questa sera poco prima dell'inizio del nostro telegiornale una sentenza attesa quella per il delitto di macerata il capo della procura di macerata parlando in aula oggi ha ricordato come la violenza sulle donne non sia una perdita temporanea della ragione e invece il tentativo ha detto di riaffermare l'ordine in cui l'uomo è padrone oggi quel padrone si chiama Inno Sentosegale un'acrobata della menzogna lo ha definito il magistrato è stato condannato pochi minuti fa al massimo della pena ergastolo senza attenuanti per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale vilipendio distruzione e occultamento di cadavere quel giorno il 30 gennaio di un anno fa Pamela Mastropietro in base alla sentenza è stata uccisa a coltellate dal pusher nigeriano perché dopo essere stata violentata avrebbe provato a fuggire da quella casa di macerata dove il trentenne viveva e dove lei era andata dopo essere fuggita da un centro di recupero per procurarsi una dose di eroina forse lo avrebbe denunciato quando Pamela voleva andare via lui ha riaffermato la sua signoria ha detto ancora il procuratore Osegale invece aveva sempre negato di averla violentata ed uccisa strumentalizzata come un giocattolo sono le parole usate dall'accusa in aula perché Pamela quello stupro non poteva neppure reagire era sotto l'effetto dell'eroina Osegale invece sempre sostenuto di averla ritrovata morta dopo essere uscito per vendere altra droga così come aveva ammesso di averla barbaramente fatta a pezzi e messa in due valigie poi abbandonate lungo il ciglio di una strada una tesi che la difesa aveva tentato di sostenere con una perizia legale che avrebbe legato la morte ad un overdose di segno opposto la consulenza dell'accusa in base alla quale la 18enne romana è morta dopo due coltellate ma già lo scorso aprile la corte d'assise non ha voluto neppure disporre ulteriori esami medico-legali giustizia per Pamela giustizia per Pamela entrando in aula la madre di Pamela aveva pronunciato solo queste tre parole con rabbia indossando una maglietta con la foto della figlia e una collanina con il suo nome un processo questo in cui ha pesato anche la testimonianza di un collaboratore di giustizia compagno di cella di Osegale che ha scoperto la sua identità pubblicamente per raccontare quanto il nigeriano gli ha confidato ogni dettaglio di quelle ore terrificanti così come importanti sono state le testimonianze di altri due spacciatori inizialmente indagati hanno raccontato di una telefonata con Osegale durante la quale avrebbero sentito le grida e il pianto di Pamela oggi la condanna la vicenda è avvenuta pochi giorni prima come ricorderete del voto europeo a Genova anzi nell'ultimo giorno praticamente della campagna elettorale con il comizio di Casa Pound e la manifestazione antagonista che è sfociata in violenze in una carica delle forze dell'ordine in cui è andato di mezzo ed è stato picchiato tanto da dover essere ricoverato in ospedale un giornalista di Repubblica Stefano Origone bene oggi spontaneamente quattro poliziotti si sono presentati al Palazzo di Giustizia per incontrare il magistrato che indaga sulla vicenda e due di loro hanno ammesso di aver colpito Origone mentre altri due hanno detto di non aver partecipato direttamente ma di aver visto la scena solo alla fine si sono presentati i quattro agenti con i loro difensori e quindi già sapendo di poter essere indagati nel mirino della procura però ci sarebbero altre due persone che non è escluso possano a loro volta presentarsi in procura nelle prossime ore come hanno fatto oggi i loro colleghi ma adesso andiamo all'estero perché c'è un fatto importante il super procuratore del Russia Gate Robert Mueller infine ha parlato ha parlato in diretta alla nazione di fatto per raccontare cosa è stato fatto cosa si poteva fare cosa non si poteva fare un discorso che qualcuno giudicherà ambiguo dai risultati visto che alla fine Trump ha twittato game over il caso è chiuso mentre Nancy Pelosi la come sapete la presidente la speaker della Camera è leader quindi parlamentare dei democratici ha detto adesso dopo le parole di Mueller bisogna andare fino in fondo da quando aveva iniziato a indagare su Russia Gate quasi due anni fa non aveva mai rilasciato dichiarazioni pubbliche oggi invece il procuratore speciale Robert Mueller si è concesso ai giornalisti anche se per soli nove minuti e senza accettare un contraddittorio lo ha fatto perché come ha spiegato il caso è chiuso ed ora si può ritirare a vita privata senza rinunciare tuttavia a qualche sottolineatura e senza scagionare Trump se lo avessimo creduto innocente lo avremmo detto ha spiegato Mueller che si riferisce all'accusa di intraccio alla giustizia rivolta alla Casa Bianca durante l'inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 non c'è certezza dell'innocenza e ovviamente neppure della colpevolezza e d'altro canto ha affermato Sibillino e il procuratore il presidente non può essere incriminato con una legge federale mentre è in carica è incostituzionale e questa è stata l'indicazione del dipartimento di giustizia ma di una cosa è certo l'ex direttore dell'FBI e cioè che le interferenze di Mosca ci sono state numerose e documentate di sicuro l'intelligence russa ha hackerato l'account di posta elettronica di Hillary Clinton per danneggiare un candidato presidenziale fatti questi che meritano l'attenzione di tutti gli americani Mueller ha difeso il suo rapporto che come noto è stato reso parzialmente pubblico dall'attuale ministro della giustizia Barr è già tutto lì ha detto il super procuratore che non intende più intervenire su questo argomento e lancia un messaggio chiaro al congresso una mia testimonianza sarebbe inutile perché non avrei nulla da aggiungere il rapporto parla da sé la prima reazione è arrivata da Trump che in un tweet ha scritto nulla cambia con il rapporto di Mueller le prove erano insufficienti e quindi nel nostro paese la persona è innocente questo caso è chiuso ma per i democratici non è così e le parole del procuratore sono anzi un sostanziale invito a imboccare la via dell'impeachment e visto che Mueller aveva le mani legate dicono ora aspetta al congresso indagare sul presidente le parole di Nancy Pelosi sono queste la leader della maggioranza democratica la Camera dei rappresentanti ha detto il presidente non è al di sopra della legge il congresso continuerà a indagare e a legiferare per proteggere le nostre elezioni è chiaro anche il pressing perché Trump abbia comunque sempre questa questa spada di Damocle per tutta la prossima campagna elettorale vi devo dare una notizia giudiziaria di sport che interessa molte città e molti tifosi la Corte d'Appello della Federcalcio ha condannato Palermo a 20 punti di penalizzazione per l'illecito amministrativo che già l'ha tolto dalla corsa per la Serie A questo vuol dire che il Palermo resterà in Serie B perché in primo grado la squadra era stata la squadra siciliana era stata condannata alla retrocessione in C per effetto di questa sentenza invece a retrocedere è il Foggia sono già retrocessi il Padova e il Carpi il play out per la quarta retrocessione sarà tra Salernitana e Venezia dopo di noi Lilli Gruber ospita Mario Monti Gad Lerner e Stefano Zurlo ci fermiamo e infine le borse vediamo come ha chiuso Milano meno 1 e 29 l'indice finale Fuzzi Mib con lo spread che è scomparso come vedete e che ricompare adesso a 282 punti base scusate ancora stanno festeggiando per la non stop di domenica infine come sta andando Wall Street il Dow Jones sta perdendo l'1 e 11 e il Nasdaq lo 0,87 qui c'entrano anche le controverse reazioni a Muller ci fermiamo Gruber ci vediamo domani sera buona sera buona sera buona sera